Questo è un tema pressante, un tema su cui continuiamo a vedere indifferenza, continuiamo a vedere egoismo e crediamo invece che si scherzi col fuoco perché se l'Europa non fa quello che potrebbe e quello che ha detto che avrebbe fatto, cioè una politica comune dell'immigrazione, della gestione delle frontiere e dell'asilo è evidente che questo è del carburante nei motori degli euroscetici, degli xenofobi, dei razzisti.